Ok, com'è stato il rientro dopo tre settimane di squalifica? Ma, grande gioia. Primo per questo risultato contro la prima classifica abbiamo fatto una prestazione ottima e sono molto contento di aver portato a casa i tre punti anche arrivato personale. Ok, e sei stato l'autore dell'assist sul primo gol? Com'è stato? Sì, per fortuna abbiamo creato subito questa occasione dove sono riuscito a metterla bene a gira che è stato bravo a inserirsi e a metterla dentro, che diciamo ci ha aperto le porte per gli altri due. Hai una dedica particolare per questa rete? Dovrei sapere all'incarne un po'. Dico a mio fratello che inizia adesso a capire un po' di calcio e gli piace seguirmi e gli dedico a lui questo assist. Ok, grazie.